Lutto a Napoli nel quartiere di Barra per la morte di Mario Ambrosiano, un ragazzo di soli 17 anni, deceduto questa notte in un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di uno scooter guidato da un altro ragazzo, quando il mezzo a due ruote si è schiantato contro un'altra automobile che era ferma in sosta e si stava immettendo nuovamente nella circolazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo il 17enne è arrivato deceduto all'ospedale del mare. Il conducente dello scooter invece è stato ricoverato all'ospedale San Paolo in condizioni che non vengono giudicate gravi.